Colori sgargianti, tonalità forti come il messaggio che portano, tinte tenui e sfumate per dare profondità allo stesso, tratti definiti e sagome multiformi. Mille tecniche espressive a confermare che quella del disegno è un'arte tanto primordiale quanto sempre attuale nel raccontarci epopee e destino dell'uomo. Il tutto è immortalato in più di 80 illustrazioni provenienti da vari paesi del mondo, esposte nell'ambito del Festival Biblico, nella mostra Ospiti e Custodi del Creato, che sarà al Centro Culturale San Paolo di Vicenza fino al 23 maggio. Il Festival Biblico quest'anno ha per titolo l'ospitalità delle scritture. Questa mostra si inserisce appunto nelle iniziative di quest'anno con 85 espositori provenienti da tutto il mondo che hanno illustrato racconti e storie dall'Africa. Africa che come continente è simbolo dell'ospitalità dell'uomo verso la natura e verso i suoi simili. Il percorso narrativo e visivo, nato dalla collaborazione tra Festival Biblico e la Fondazione Sarmede, vuole raccontare attraverso le fiabe dei popoli africani, oltre che lanciare un messaggio ai più piccoli, il rapporto con la terra che ci ospita. Un tuffo nella natura, immensa e selvaggia, che non può far altro che appassionarci e rapirci con il suo fascino. Ospite d'onore è stata l'artista di origine polacca che ha accompagnato i bambini spiegando loro l'importanza della fiaba e del suo mestiere di illustratrice. Prima cosa ho spiegato il mio lavoro, cioè che cosa significa fare un libro, che per i bambini non è sempre così scontato. Il prodotto finale non si capisce, non si conosce la storia che ci sta dietro. E allora ecco che gli animali diventano lo specchio dell'uomo. Lepre e rana rimandano l'immagine dell'uomo debole e povero, ma altrettanto intelligente e coraggioso. Il leone e il leopardo diventano figura dell'oppressore arrogante, o ancora la iena, simbolo dell'uomo subdolo ed egoista. È così che le fiabe parlano di giustizia, di prepotenza, di amore e trasmettono una concezione della vita. Grazie a tutti.